Ancora una volta saremo accusati di occuparci con troppa solerza della mancata corrisponzione a vittoria dei cosiddetti buoni pasto, così il segretario provinciale dell'UGL Aldo Caruso, che rileva in questione come dal mese di gennaio il comune Ipparino non adempia quest'obbligo. Per l'esponente sindacale questa mancata corrisponzione dei buoni pasto potrebbe anche essere un campanello di allarme sull'effettiva solvibilità dell'ente, un segnale in ogni caso anomalo per lo stesso rappresentante sindacale, reso ancora più grave dal fatto che lo scorso marzo i dirigenti dei settori interessati proprio rispondendo ad una nota della stessa UGL avevano ufficialmente rassicurato le organizzazioni sindacali sulla prossima erogazione dei buoni pasto, rassicurazioni che oggi sembrerebbero avere perso il loro valore. La crisi economica che sta intanto attraversando la quasi totalità degli enti locali italiani, rimarca Caruso, non consente di sottovalutare temi che riguardano il mancato pagamento di somme dovuto ai lavoratori da parte di un ente pubblico per cui non lasceremo che anche il comune di Vittoria segua la nefasta scia di altri enti di questa provincia. Vigilante denunciando, conclude all'esponente sindacale, ogni atto che va a danno dei lavoratori del comune.